Se hai modificato la password della tua casella PEC o hai generato la password dedicata dopo aver attivato la verifica in due passaggi, devi aggiornarla anche sulla tua applicazione di posta elettronica. In questo video ti mostro i passaggi necessari per farlo su Mozilla Thunderbird. Eseguito l'accesso al client, se visualizzi la seguente finestra di dialogo, clicca su Annulla. Clicca sulla rotellina dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni. Vai al menu Privacy e sicurezza e clicca su Password salvate. Nel campo indicato digita il nome della tua casella PEC. Una volta trovata, selezionala e clicca su Mostra password. Seleziona Sì per confermare. In questo modo verranno visualizzate le password degli account in chiaro ed il campo Password risulterà modificabile da tastiera. Clicca due volte con il mouse sulla vecchia password per modificarla. Una volta aggiornata la password, ripeti la stessa operazione per il parametro SMTP. Infine chiudi. Ben fatto, l'operazione è conclusa. Dopo aver aggiornato la password, ti consiglio di eseguire un test di controllo inviando un messaggio dalla tua casella PEC al tuo stesso indirizzo PEC al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi.